Al Dolomier si formano le nuove leve del settore turistico e non solo per la montagna bellunese. L'imponente struttura è stata oggetto di importanti investimenti da parte della provincia, 300.000 euro già spesi e altri 100.000 che copriranno la sostituzione dei serramenti. Abbiamo messo delle nostre risorse insieme a quelle dello Stato per cercare di adeguare i nostri edifici scolastici intanto al Covid e poi cercando di fare degli interventi di adeguamento sismico che erano indispensabili per garantire una formazione sicura per i nostri ragazzi. Nella mia scuola cambia tutto. Questa scuola è praticamente un cantiere in continua evoluzione. Abbiamo delle persone che sono veramente appassionate e tengono moltissimo alla scuola e hanno seguito i lavori che si sono susseguiti nell'ultimo anno di anno solare. Sono state create aule multimediali, è stata accertata la sicurezza antisismica, spazi comuni e convitto sono stati adeguati alle normative anti-Covid. È stato un percorso di alcuni anni di programmazione, siamo intervenuti su un gran parte dei 23 istituti scolastici che abbiamo in gestione come provincia di Belluno e devo dire che questo percorso ci sta dando anche delle soddisfazioni perché riusciamo a garantire veramente dei locali che finalmente sono adeguati a quelle che sono le esigenze del mondo della scuola. In vista, infine, lavori per il risparmio energetico. Per otto gli istituti bellunesi sono stati istantati quasi 4 milioni di euro di cui una buona fetta destinata proprio al Dolomì.